Gareggiare anche simbolicamente per la pace. Fadi Al-Deb è l'unico atleta palestinese che partecipa ai giochi paralimpici di Parigi 2024. Ha abbandonato la striscia di Gaza dieci anni fa per intraprendere la carriera nel basket su sedia a rotelle. Ha giocato in Turchia, Grecia e ora in Francia. Sento una grande responsabilità, spiega l'atleta, perché ora non parlo per me stesso né competo per il mio nome. Oggi rappresento milioni di persone. Quando alzo la bandiera provo una grande responsabilità, ma anche una grande tristezza. Al-Deb, 40 anni, fuori dal villaggio olimpico, ha raccontato di essere diventato paraplegico dopo essere stato colpito alla schiena da un soldato israeliano nel 2001 durante la seconda intifada. Il comitato olimpico palestinese è stato riconosciuto nel 1995 dal comitato olimpico internazionale. Non sono mancate le polemiche ai giochi sulla partecipazione degli atleti israeliani dopo il duro conflitto tra Israele e Hamas. La tregua olimpica per tutte le guerre in corso nel mondo non è stata osservata, ma questo non potrà mai cancellare le aspirazioni alla pace anche attraverso i valori dello sport della carta olimpica.